Amici di Catanzaro Sport24.it, appassionati di grande calcio, un saluto da Andrea D'Agiano. Oggi per la terza giornata di campionato andiamo a vedere il Potenza prossimo avversario del Catanzaro, partita che si disputerà domenica 12 settembre alle ore 17.30 allo stadio Nicola Ceravolo, abitra Di Marco di Ciampino. Potenza che ha un solo punto guadagnato in casa contro il Bari e ha già 5 reti incassate. Potenza e Catanzaro si sono affrontate 29 volte, 10 vittorie per il Catanzaro e 6 vittorie per il Potenza. Andiamo a vedere la probabile formazione di Fabio Gallo per la domenica pomeriggio. Potenza che si schiera con il classico 3-4-1-2. Marconi in porta ai tre centrali Gigli, Cagnelutti e Maestrelli, le due ali Nigro e Coccia in mediano a Sandri e Zampa. Il trequartista Ricci ha supporto delle due punte, Salvemini e Romero. Il trequartista Ricci ha supporto delle due punte,